Più che bianco, splendente! Si può! Si, si può! Con nuovo omino bianco, colori sempre brillanti! Si può! Si, si può! Con nuovo omino bianco all'ossigeno attivo, aggiungilo al tuo detersivo. Scoprirai che già a 60 gradi, omino bianco sviluppa ossigeno attivo che libera dolcemente il tuo bucato da sporco e macchie. Così con nuovo omino bianco, il bianco è più bianco e i colori sempre brillanti. Prova nuovo omino bianco, scoprirai che... Si può!